Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1, due chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione Bologna. Coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In Filippi, rallentamenti tra Empoli Est e la Strassigna e tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Spostandoci sulla statale 1 Aurelia a scambio di carreggiata per lavori tra i chilometri 287,300 e 290,700 tra l'incrocio con la 12 e Rosignano Solvè in direzione Nord. A Firenze da oggi è attivo il prolungamento della linea 1 della tramvia dalla stazione Santa Maria Novella a Careggi. Gli utenti non dovranno cambiare tram. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!